Secretario Zampa, chi riaprirà il 18? Lo decideranno le regioni insieme al governo, perché quel monitoraggio che abbiamo fissato, che è stato ben illustrato un poco fa, prevede che dove ci sono situazioni sotto controllo e dove i dati scendono ulteriormente, quel famoso R con 0 scende di molto sotto 1, io credo che lì in quella situazione si possa aprire di più.